Signora ministra degli interni Luciana Lamorgese, io mi attendo le sue dimissioni dopo l'ennesimo strafalcione che il suo ministero ha consumato a danno della salute degli italiani. Non ho chiesto le sue dimissioni per la denuncia di l'esa maestà che ha fatto nei miei confronti, probabilmente per intimidirmi, perché ci vediamo in tribunale. Ma dopo l'ennesimo strafalcione di ieri in merito alle cosiddette passeggiate autorizzate dallo Stato, sono costretto oggi a chiedere fortemente le sue dimissioni, perché l'andamento del suo ministero è paragonabile soltanto ai cosiddetti dilettanti allo sbaraglio. L'OMS, già l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadisce che l'antidodo più efficace per combattere la diffusione del coronavirus è l'isolamento. E noi ci siamo trovati in questa situazione con un andamento da parte dello Stato veramente vergognoso. L'8 di marzo, quando era stata definita la cosiddetta zona rossa per gli undici comuni della Lombardia e del Veneto, guarda caso, l'unica cosa che si continuava ad autorizzare erano le passeggiate all'aperto. Il 9 marzo, quando le disposizioni della zona rossa venivano estese con un apposito DPCM a tutto il resto d'Italia, si continuavano ad autorizzare queste passeggiate all'aria aperto. Ebbene, noi sindaci, dovendo far fronte invece alla emergenza che viviamo sul campo, a differenza vostra che state nei palazzi dorati e non vi rendete conto quindi delle nefandezze che approvate, abbiamo cercato di bloccare in casa tutta la nostra gente. Io in particolare l'undici marzo ho fatto un'ordinanza, la numero 60, che nel giro di 48 ore è stata falcidiata da un suo comunicato stampa e anche da una nota della prefettura di Messina perché avevo vietato a tutti di uscire di casa, se non per motivi di lavoro, di salute e di estrema necessità. Purtroppo noi che stiamo in trincea ci rendiamo conto cosa significa far rispettare questo divieto. Ebbene, avete cambiato per l'ennesima volta idea e successivamente con un'ordinanza che ho fatto esattamente il 18 marzo, non potendo quindi vietare stressamente a tutti di uscire di casa, ho invece vietato l'uso del mio suolo perché sul mio territorio, ministro, comando io e quindi ho vietato a tutti di usare il luogo pubblico. Ho disposto la chiusura di ville, di parchi e ho anche vietato di usare la strada e le piazze se non per i casi di estrema necessità. Arriva successivamente anche una ordinanza da parte del ministero della salute, la quale purtroppo ha stabilito che si poteva uscire di casa e quindi si cambia nuovamente posizione pur se per passeggiate attorno al proprio condominio e di conseguenza ci siamo trovati nuovamente in difficoltà perché i sindaci accorti come me in ogni caso avevano già autorizzato la propria comunità per le famiglie dove ci sono delle disabilità, delle patologie particolari, di uscire di casa. Quindi noi la distinzione l'avevamo fatto, il ministro Speranza invece in modo indiscriminato che cosa ha fatto? Ha comunque spinto gli italiani in ogni caso ad uscire di casa. Nonostante il 18 di marzo, e c'era stata anche un'ordinanza del TAR della Campania che aveva dato ragione al presidente della regione Campania dove si stabiliva di non uscire. Ora con l'ennesimo strafalcione che è stato corretto anche ieri vi siete confermati dilettanti allo sbaraglio. La gente deve stare a casa e i ministri la devono smettere di continuare a dare segnali balordi. Se non siete nelle condizioni di governare questa guerra, dimettetevi!